Come ogni anno è giusto tributare questo ricordo perché gli anni passano, però quelle persone sui monumenti ricordano scalfite nella pietra e nel marmo, quelle persone che con grande coraggio, grande determinazione, con sicuramente spirito di sacrificio hanno dato la loro vita per noi, la loro vita che ci permette oggi di essere qua e di goderci questi momenti di ricordo ma anche di festa, grazie soprattutto a questo ennesimo e grandissimo sacrificio. Per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Carabinieri che ringrazio per il loro impegno fattivo in tutte le manifestazioni e celebrazioni che ci sono sul territorio non solo di Lenna ma di tutta la Valle Vrembana, che ringrazio veramente di aver scelto Lenna come destinazione della loro sede, un impegno importante che dà grande valore alle associazioni d'arma insieme ovviamente all'Associazione Nazionale Alpine e tutte le altre associazioni d'arma che sono presenti in Italia. Alza bandiera! 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 quindi sono orgoglioso di fare il cerimoniere di questa manifestazione perché essendo la prima e unica, spero che siate solo voi in Altavalle, sono orgoglioso dell'invito che mi ha fatto Milari. Schieramento attenti! Onori ai caduti! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti! Grazie a tutti! La benedizione di Dio Annipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti! 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 A tutti i soci e amici di presenti all'inaugurazione della nostra sede. Un sentito ringrazio di ringraziamento del sindaco Jonathan Lovati e a tutta l'amministrazione comunale che ci hanno concesso questi locali incomodati ad uso gratuito. Un grazie al gruppo Alpini di Lenna per la collaborazione avuta. Un grazie a tutti! Un grazie a tutti! 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 Padre, figlio e spirito santo. Amen. Riposo. Dal toro, dal toro. Bravo. Ho fatto tutto. Andro? Porto, porto.